Grazie a tutti. 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 Brucco S che anticipa la risalita di Barreiro. Terza ruota per Cameron Diaz, Trebb, quarta per Big Gym LF. Si va veramente forte. Il leader ha percorso gli 800 in 59. Bomberdino affiancato da Crack di Girifalco, poi una pariglia composta da Ciclone Griff e Brucco S e terza per Barreiro. Io da start a start 12,5 per i primi mille metri. 11,6 addirittura partendo a 2100. Adesso rifiata Bomberdino. Posizione da sparo per Brucco S. Con Giuseppe Cirillo Insalchi. Crack di Girifalco ritorna su Bomberdino. E lo liquida. Crack di Girifalco passa a 600 dalla conclusione con un parziale in 14,1. inseguito soprattutto da Barreiro. Crack di Girifalco. Barreiro. Poi Big Gym che supera diversi concorrenti. Miglio ultimato in 1,57,8. Barreiro va sul Crack di Girifalco. Ingresso in retta d'arrivo. Sta passando Barreiro con Frenchi a colare. Barreiro in chiaro vantaggio. Ma Crack di Girifalco ha fatto una supercorsa. Mentre per il terzo Big Gym LF. Anch'esso autore di prestazione valida. Tiene a bada Virtuoso Luis. E questo l'arrivo probabile ed ufficioso. Atteso gli eventi. Barreiro da autentico passista. E' passato nel tratto conclusivo. Nei confronti di Crack di Girifalco. Che era andato davanti. Ha dovuto poi invece costruire a largo. Alla fine. Valido secondo posto. Il vincitore si è espresso a media di 1,13,3. Sui 2.100 metri. I colori del signor Pasquale Brisciano. Francesco Iacolare in Salchi. Per il training di Giovanni D'Alessandro. Buongiorno. Alla fine. Leitura si è espresso.